ok ho infinito stiamo facendo un survival games uccidilo uccidilo grande mi puoi dare una spada e un elmo che ha droppato il tizio vengo a aspettare ok graffi eh si infatti c'era quante robe divertiti io non faccio francese mentre tocco voi grazie ma perchè tu fai il primo o secondo ricerca tu fai primo o secondo ricerca cerchiamo dei diamo degli stichini ok io sono davanti io sono davanti in una cesta wow io ho i semi dove siete entrati voi io per le 5 a 15 scendo così oh ma che è successo niente voi dove siete che mappa no 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 non ti preoccupare mamma non è fuori mamma non è fuori io sto aspettando a voi tre che giocate tox mi dici oh dio mamma muo mi dite dove siete io faccio per arrivare una cassa magica voglio dire ma tu hai un uomo ti metti effetto l'ho visto ucciso metchio è un pro meca2s ho degli stivali per te cos'è che aspettando si possono vedere gli inventari wow c'è già tutto il sferro contatto proprio quale cifo a metto oh ma c'è un metto tox tox ah eccolo non potresti dire dove sono mica e mi dai gli stecchini no no nella partita dove sei anche tu grazie eh ma papà non ne avevi idea solo che visto che mio fratello si è sperso allora aspetta ehm descrivimi dove sei sono in un posto ma perchè non vuoi fare teleport tu giangi si ma poi vabbè arrivo allora tu sei qua devi salire su sto palazzo gigante che c'è a fianco e sono sopra al palazzo oh ok allora arrivo cosa? ah è una cesta io ho visto il tuo video dove hai ucciso qua mattio qua sotto che c'è dentro? ok io ce l'ho già l'ho cedito l'hai proprio trollato hai delle frecce trollato non c'è no c'è la gialla nei commenti che ti dice che non era il vero mattio c'è era vivo non era me no ti va per cadere di sotto non aveva due account non aveva due account quello la ma quello è sempre Matthew e il bello è che quello è un pro ti ho perso io invece ho perso dove devo andare perchè sono salito stranamente ma perchè sei andato lì? non puoi più uscire adesso si può si può si può come? e come fai? con la tnt? no 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 oh arriva un tizio sta arrivando un tizio mecca tu ok arrivo oh mi mimetizzo nell'ombra si arriva sta salendo sopra il tizio sono io il tizio ah non è vero no 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 non sei tu non sei tu va dietro le scale qua non è jangy dove finita mecca tu mecca tv oh aspettaci oh aspetta che arrivo anche io vedete che c'è un tizio che non uccidiamo morto oh raga non riesco a salire Che strada avete vinto? Wow Oh my god Che esplosione Ho sentito TNT alla mia sinistra Danji ma sei qua? Danji? Danji? Ti vedo? Scendi giù Dov'è? Scendi giù Ma dove scendi? Dalle scale Che è stato? Aiuto Ah ciao Tieni dei pantaloni Grazie ero nudo senza di questo Grazie Basta 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 Stiamo ripetendo di cose Ormai si svuotano Vediamo che inventario ha già Aspetta c'è anche dei stivali di ferro Avete frecce avete frecce No Io vedo un po' dove Ma si può vedere in ogni caso dove sono ceste libere? Ti dono i semi della potenza Ah qui sulla cruce ce n'è una Solo che come si sa? Ah in cambio c'ho le ossa della forza più forte Io invece ti dono le angurie No le cose inutili Sì vedete che Ah queste poi sono del più alto potere Vedete che sulla cruce è una cesta Oh Danji vieni Vieni Ce l'ho già questa Vabbè è tutta l'impia Non si può male Aspetta Siamo in nove ancora Mi dai il sito? Io vi dico un po' dove sono gli altri tizi Ok Eh? Ah si tieni Allora Ce n'è una Lontanissima Oh io ne ho visto Ho visto un vulvi e l'ha non ci so Aspetta me Dove? Dove è? Dove è lì Ah sono la cessione della forza più totale Allo spawn potete venire Allo spawn c'è un tizio Allo spawn c'è un tizio Allo spawn c'è un tizio Io lo seguo Io lo seguo Quando il sick avete? E ancora allo spawn c'è un altro in più E se le ha meccato Meccati mo E' full triamon con la spada E' full freno con la spada i diamanti Sì Dove l'hai fatta la spada? Eh ho trovato due diamanti e uno stick Lì Aspetta dove è la cra... Ah eccola cosa si fa ad arrivare lì Non si può non si può neanche così Allora perché ci hanno messo una cesta che senso va Ehm è una cesta trova No vedi che mi sa che si può No 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 Soltanto se tutti i sponsorizzano Basta spaccare tutti i blocchi che stanno qua Ti fai un pillarone della madana Eh perché te che non puoi spaccare i blocchi Oh no ma se ti puoi entra in quella gru E vedi che qui le scale Quole scale ci sono? Sono staccate ma ci sono Le scale nella gru Boh io non c'è Vado comunque Ma io non andarci nella gru Sì rischiate Avete dei alti pezzi dell'armatura di ferro? Io si tieni Cioè no no a ferro no Però possiamo Comunque c'è un team Dato che tu sei messo peggio Tieni C'è un team da due Ok grazie Precisamente sta sempre allo spondo Dovete venire allo spondo E adesso li arriviamo Peccato che abbia sei cuori Ah tieni E se vuoi ci vuoi una mera C'è un po' di C'è un po' di Ok mori in pieno le ceste Oh io di sopra prima avevo trovato un accesso con tantissime cose Se si riempiono andiamo lì che ce la ritroviamo Forse Quella Si riempie fra vediamo Eh si bravi che ci sono Anche se ci stanno spettando Ecco la questa No vabbè lascia stare andiamo allo spon C'è un tizio che sta affiando allo spon Anzi è una tizia Ruba le spade ruba così se gli altri non gelano Potete vedere tanto questa è mezza scema Ok Andiamo allo spon Ok Quando ci abbiamo la bussola Dovete venire dalla parte dove posso vedere Aspetta che non vi vedo Ho trovato una pozione rapida Ok Gianji Gianji Sì Veloce dritto c'è un tizio Mi sto dando allo spon Perché vi ho perso Ah ok Ah no è mecca è mecca È mecca allo spon Però lo vedi Vedi la struttura gigante Aspetta che c'è un tizio Che sta C'è in team Stanno in team Due team Quello che è mecca Stanno andando dove siete andati voi Uh si sono riempite Uh questo mi serve Ok siamo tutti full ferro Allora Rubate il cibo Rubate il cibo Sono dei tizi che Qua sono uccisi Arco con power Arco con power Non abbiamo frecce però Ecco C'è qualcuno che lo serve Chi è? Dove dove? Allora dovete venire Dove eravete prima Ok Un attimo Votemi mangiare Io guardo se c'è del cibo Perché ho fame Ah ok grazie Ora vediamo se riesco A farvi venire Proprio a venire Ciao c'è del cibo